Gli operatori del SILB e Confcommercio di Pescara chiedono di avviare un piano sicurezza a tutela delle migliaia di utenti che si riversano nei locali notturni della riviera durante tutto il periodo estivo. Gli ultimi episodi di cronaca, con aggressioni di giovanissimi, hanno fatto scattare un campanello di allarme per il prossimo 24 giugno. È stato convocato in questura, sempre a Pescara, un incontro con le associazioni per decidere quali misure adottare per arginare il fenomeno. Il nostro sindacato locale da Balle, presieduto da Aldo Bertoni, sta mettendo in piedi delle sinergie tra tutti i gestori per poi successivamente presentare il 24 giugno presso la questura di Pescara un protocollo di intesa che consente sia alle forze dell'ordine, ma non solo, ma anche a loro, la loro incolumità, e garantire più garanzia possibile in modo che i fruitori del tempo libero serale, nel tempo notturno, possono soffrire delle ore di svago con la massima tranquillità. Oltre al potenziamento degli impianti di videosorveglianza e all'incremento degli addetti alla sicurezza, i gestori dei locali chiedono di poter utilizzare Metal Detector all'ingresso delle loro attività per poter individuare coltelli o comunque oggetti che possano mettere a rischio chi va solo a divertirsi. Io sono convinto, e ne sono più che convinto, che la parte degli operatori che gestiscono le ore notturne sono all'altezza della situazione e sono all'avanguardia. Ho avuto anche un plauso dal parte del Presidente nazionale Pasca del sindacato locale d'Abballo che ha detto che come stanno portando avanti in questa ultima settimana i nostri associati stanno mettendo in risalto la loro professionalità. E' questo che a noi interessa, interessa lanciare un messaggio, la sera venite nei nostri locali, venite nella nostra riviera perché trovate lo svago, trovate i posti per il tempo libero e la massima sicurezza. Ringraziamo in particolare la Questura di Pescara che ha preso in seria considerazione questa iniziativa.